Tu sei nato, scelto e chiamato nella Chiesa perché una persona, forse tuo marito, forse tua moglie, forse un tuo figlio, forse un tuo collega, forse una persona che tu non conosci e che Dio ha posto accanto a te dall'eternità, sia salvata dall'inferno, possa conoscere l'amore di Dio e tornare a Lui. La tua vita è preziosissima perché è stata scelta come è stata scelta la vita di San Massimiliano Maria Colbe di cui oggi celebriamo la memoria. Arrestato e messo nel campo di concentramento di Auschwitz ha trasformato quel luogo di morte in un tabernacolo. Per noi cristiani Auschwitz è una cattedrale, è il Golgotha, il santo sepolcro di questa generazione, di questo tempo. Lì Gesù Cristo in Massimiliano Maria Colbe ha compiuto ancora una volta il suo mistero di Pasqua, il suo passaggio dalla morte alla vita che significa trasformare anche la morte più violenta, anche l'ingiustizia in un grembo di giustizia, in un grembo di vita. Questo è il potere dell'amore dentro di te, amato da Cristo, perdonato da Cristo, anche tu sei chiamato e inviato nel mondo a trasformare la storia che sei chiamato a vivere in una cattedrale. La vita di San Massimiliano Maria Colbe ha salvato un padre di famiglia, ha salvato una famiglia, ha riconsegnato un padre e i propri figli. Così oggi e ogni giorno tu ed io siamo chiamati ad offrirci perché le persone che sono accanto a noi possano essere riconsegnate alla propria vocazione. Perché sia salva la tua famiglia, la famiglia di tuo fratello, l'anima della persona che è accanto a te, che Dio ha pensato di legare a te per l'eternità. E non solo, ma come San Massimiliano Maria Colbe ha trasformato la cella della fame e della morte in un tempio, in un luogo dove si innalzavano salmi e cantici spirituali, il peggiore luogo della terra, in un luogo d'amore, santo, che profumava di cielo. Così anche i luoghi dove tu sarai rinchiuso oggi e ogni giorno della tua vita, dove avrai fame dell'affetto delle persone care, dove sarai insultato, dove sarai rifiutato. Per trasformare ogni luogo della tua vita in un tempio, per adorare Dio in spirito e verità e diffondere, diffondere il buon profumo di Cristo su tutte le persone che sono accanto a te. Per trasformare ogni luogo di dolore, di sofferenza, di ingiustizia nel quale tu sei chiamato a vivere, in un anticipo di cielo. Per portare la benedizione dove c'è la maledizione, la lode dove c'è la bestemmia, l'amore dove c'è l'odio.